Quinto set, il tie break, la palla centrale, la possiamo lavorare bene, Storani cerca la Carpera, schiacciata della Carpera, ma debole, la palla che danza sopra la linea, ancora la Carpera, la Storani, la Bombardi non ci riesce ancora questa giocata, ci attaccano, buona la Orselli, tira sulla Carpera, manda di là la Orselli, fanno una veloce, non gli riesce, incredibile, incredibile. Il punto che abbiamo guadagnato in questa fase è secondo me un punto che sarà determinante, siamo sul match point, siamo a un passo ragazzi, è ancora la Sara Lombardi, l'avevo detto, era lei che ci doveva fare il salto, ancora la Lombardi in saltello, ancora la ricerca del libero, questa volta riceve bene, le muriamo, la palla va giù e vince l'Elecina! 15 a 11, l'avevo detto che si poteva fare e l'abbiamo fatto, incredibile, adesso vanno tutti al centro del campo a raccogliere l'applausi del pubblico, ma è stata una bellissima partita.